Incidente, oggi sabato 4 prima intorno alle 14 sulla strada provinciale 460 in località Valleri in prossimità della rotonda per Salassa sotto il comune di Valperga. Un centauro a bordo della sua onda da strada ha perso il controllo del mezzo centrando in pieno la rotonda e cadendo rovinosamente a terra. A dare l'allarme al compagno di viaggio che vedendolo accaduto è immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute l'ambulanza di base e il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Bianca del Canavese e la Croce Rossa di Ivrea. Il giovane dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato ritrasportato al CTO con probabili fratture multiple. L'arteria stradale è stata bloccata per permettere i primi soccorsi dell'infortunato e ha registrato notevole ricorde su entrambi i sensi di marcia.